La fantasia dei politici italiani è davvero fervida. Sappiamo tutti, infatti, che questo governo, questa maggioranza, sono in piedi per un unico motivo, ossia per permettere ad una pletora di parlamentari di poter incassare uno stipendio che altrimenti si sognerebbero. E perché, se si tornasse al voto, la quasi totalità di loro non sarebbe rieletta. Ossia, noi oggi abbiamo un governo fondato sullo stipendio dei parlamentari e contemporaneamente una situazione economica e sociale del paese che definire drammatica è poco. E allora i parlamentari si inventano le diciture così più fantasiose per giustificare e dare così una veste un po' più plausibile a ciò che invece è tutt'altro che nobile. Sentite, il PD rilanci le ragioni di un governo che sia all'altezza delle risposte che si aspettano le italiane e gli italiani, parlando con tutti per trovare la quadra di un programma di legislatura. Ma a chi si affidano il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per proseguire questa legislatura che, più che moribonda, sembra un vero e proprio zombie? Ebbene, non ci crederete, ma si affidano a Bruno Tabacci. Allora, carissimi ascoltatori, voi soltanto un paio d'anni fa aveste mai pensato che il Movimento 5 Stelle potesse scendere ad un livello così basso? Ossia affidare a Bruno Tabacci il ruolo di andare a reclutare gente. Mi verrebbe da dire sbandati. Andare a reclutare gente in Parlamento per continuare una legislatura che poi di fatto sta portando l'Italia alla rovina. La DC, ma mi riferisco alla DC di Lauro, probabilmente la peggior DC di sempre, al confronto era un esempio di correttezza democratica. Qui, veramente, oggi siamo ad un livello al quale non si riescono a trovare le parole. Comunque, insomma, ora parliamo fuori dai denti. In pratica a Bruno Tabacci è stato assegnato così il compito di reclutare qualcuno. Chi, ma non importa chi, non importa. Insomma, anche i Ciampolillo. Ossia persone che lo stesso Movimento aveva espulso additandoli con ignominia. E Bruno Tabacci si mette al lavoro. Avete inteso, naturalmente, quale lavoro. Qui stiamo parlando della più biega compravendita di parlamentare, un'operazione così infima. Non aveva precedenti una cosa del genere. E Bruno Tabacci, figuratevi, un volpone con quell'esperienza. E quelli dei Cinque Stelle se li mangia a colazione, pranzo e cena. E anche a merenda. I Cinque Stelle pensavano di fare un'operazione di reclutamento. Certo, un'operazione che possiamo definire bieca e torva. Ma comunque pensavano di fare, appunto, questa operazione squallida, ma a costo zero. Pratica, pensavano che Tabacci trovasse il numero di senatori sufficienti per portare avanti la legislatura, soltanto così convincendoli a sostenere l'esecutivo, semplicemente con la minaccia che altrimenti si sarebbero sciolte le camere e loro così avrebbero perso lo stipendio. E anche la pensione, che sapete che scatta dopo quattro anni e mezzo. E sì, ripeto, Tabacci, questi qua dei Cinque Stelle, se li mangia a colazione, pranzo, cena e anche a merenda. Perché ovviamente sa perfettamente che ad avere ancora più paura di perdere lo stipendio sono proprio loro, i Cinque Stelle. Quindi ovvio che alza il prezzo. Per reclutare nuovi parlamentari che sostengono il governo e non basta intimorirli così con lo spettro di perdere lo stipendio, occorre dar loro di più. E quel vecchio volpone, appunto, di Tabacci alza la posta. E sì, occorre dar loro dei posti. Cosa significano posti? Significano essenzialmente prebende. Insomma, Tabacci come Mino Raiola, cioè il celebre procuratore dei calciatori, che quando tratta appunto gli ingaggi dei giocatori di calcio da lui assistiti, lui sa perfettamente di avere sempre il coltello dalla parte del manico. Perché le società di calcio sono sempre pressate dai tifosi, ai quali non interessa quanto guadagnino i calciatori. Allora interessa solo che la loro squadra abbia dentro dei campioni. E allora alla fine i procuratori riescono sempre a spuntare ingaggi stratosferici per i calciatori. E allora la vicenda di Tabacci, così, ripeto, fuori dai denti, come si sta sviluppando? Come sta andando questa trattativa? Semplice. Le forze di governo, ripeto, hanno chiesto a Tabacci di reclutare parlamentari, come detto, a costo zero. Tabacci ha risposto, eh no, questi per venire con noi vogliono qualcosa in più, e vogliono posti, incarichi, che poi, come detto, si tramutano in prebende. Ma i posti, eh, in questo momento sono già occupati, avranno risposto i partiti di maggioranza. Il governo è in carica, è in essere. E quindi, eh, quindi Tabacci, prima ho dato un out-out ai suoi, chiamiamoli, commissionari. E se la maggioranza non si rafforza, il passaggio elettorale sarà inevitabile, ha dichiarato a Skype TG24. Traduciamo queste parole. Se non vi trovo io altri parlamentari, il governo salta e si va alle elezioni. Quindi tutti a casa. Poi ha spiegato ai partiti di governo, che naturalmente cercavano di fare gli ignorri, come si creano i posti che dovranno essere assegnati a coloro che, appunto, verranno in soccorso del governo. E la ricetta è semplice. Eh, si fa un nuovo governo. Leggiamo ora, su Il Messaggero. Ore 15 e 20 Bruno Tabacci a Palazzo Chigi, vede Di Maio, aperte le virgolette. Serve un governo nuovo. Bruno Tabacci, leader di Centro Democratico, è a Palazzo Chigi, di nuovo aperte le virgolette. La possibilità di rafforzare la maggioranza c'è, ma serve un governo nuovo. Non basta un piccolo rimpasto. Io penso che Conte sia l'unico punto di equilibrio di questa legislatura. Volete la traduzione? Semplicissimo. Un Conte terra, nei quali si devono riservare poltrone per coloro che si vendono, e arrivano quindi a sorreggere l'attuale maggioranza. Fare così un piccolo rimpasto, sia poco che poltrone, come dice espressamente Tabacci, e non basta, servono un numero adeguato, insomma. E ovviamente si parla di poltrone da ministro, viceministro, sottosegretari e annessi portaborse. Ma proseguiamo a leggere cosa riporta il messaggero. Lo dice Bruno Tabacci, uscendo da Palazzo Chigi, dove, spiega il presidente del Centro Democratico, ho incontrato il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Grande Di Maio. Sceglie sempre le persone giuste con le quali incontrarsi lui. Proprio come aveva promesso nella sua campagna elettorale del 2018. Dai, aveva sempre detto che lui... Vabbè, lasciamo perdere. Sentiamo ancora le parole di Tabacci, eh, virgolettate. Per concludere la crisi, è necessario aprire un ventaglio di forze più ampio. Renzi al Senato ha fatto un discorso di rottura, ma credo che in Italia viva ci siano posizioni più concilianti. E poi c'è l'area dei liberal-democratici di Forza Italia. Qui Tabacci usa proprio la più classica delle strategie del negoziatore scaltro. Per convincere i suoi appunto committenti a cedere e quindi a far credere che il suo non sia un bluff, così cosa fa? Fa balenare loro così l'idea che cedendo alle sue richieste, ebbè, si raggiungerebbe il risultato. In pratica, come vanno tradotte adesso le parole di Tabacci? Semplice, che lui potrebbe raccattare qualcuno da Italia viva. Quelli che, con le sue parole dicono, hanno le posizioni più concilianti. E a questi è appunto aggiungere anche, raccattare anche qualcun altro dall'area liberal-democratica di Forza Italia. In questo modo, appunto, lui riuscirebbe a portare quel numero di parlamentari necessari a far proseguire il governo e la legislatura. Ma, ripete, queste persone vanno ricompensate. Ed anche il messaggero, con altre parole naturalmente, tuttavia esprime lo stesso concetto che vi ho detto io così brutalmente. Sentite infatti come finisce l'articolo Il Giornale Romano. Come pontiere di Giuseppe Conte, Tabacci sta lavorando in queste ore a caccia di responsabili per dar vita a un gruppo parlamentare di stampo centrista che garantisca la sopravvivenza del governo, in vista di un progetto politico di più ampio respiro, con punto di riferimento lo stesso premier. Il Centro Democratico conta ora 15 membri. Per costituire formalmente un gruppo parlamentare servono 20 membri. Alcuni, anzi certamente il Movimento 5 Stelle, tempo fa lo chiamava Mercato delle Vacche. A mio avviso questa espressione risulta insultante nei confronti delle vacche.